Spiagge bianche, acqua cristallina, frutta di mille colori, un invito ad andare. Anche nel tuo paradiso servono i soldi. Quello che ti ho detto è vero, fare questo colpo è facile, non lo sbagli neanche volendo. L'avete preso da questo caso, eh? E da cosa? A due stronzi che fanno una vita al di sopra delle loro possibilità. Qui non è il paradiso, un film di Gianluca Maria Tavarelli. È l'oggetto più pericoloso e obsoleto nello spazio. Il satellite russo Icon rientrerà nell'atmosfera terrestre tra un mese. Tranne che per quelli che lo dovranno... riparare. Maledizione, Jeff. Dio che ringrazio. La Warner Bros. presenta... Vedi quello che vedo io? Credevo che sarebbe stata dura. Space Cowboys. A settembre nel cinema. 1802. La donna più potente, ricca e influente di Spagna, muore nella città di Madrid. In un'epoca in cui i tradimenti, gli eccessi dominavano tutta una corte, nacque un mistero che è durato due secoli. Volaverut. Un film di Bigas Lunar. Questo programma è stato presentato da Germinal, alimenti da coltivazioni biologiche. Un film di Bigas Lunar. Un film di Aristopati. Un film di Bigas Donna. Grazie a tutti.